Prima di iniziare ragazzi qui sul canale da adesso potrete vincere tantissimi oggetti di Fortnite tra cui bundle, vbucks, skin, codici di fumetti e tantissime altre ricompense semplicemente ragazzi eseguendo questi semplicissimi tre passaggi innanzitutto essere iscritti con la campanellina al canale se no ragazzi nel sito dove faccio i contest non vi conta quindi cosa fondamentale innanzitutto essere iscritti se no non potrete essere estratti seconda cosa ragazzi commentare con qualsiasi cosa ciao il vostro ID basta che commentate così avete l'occasione di essere ovviamente estratti e lasciare mi raccomando un bel like per supportarmi e poi ogni giorno insomma verrà estratta una persona quindi avremo diversi vincitori ogni giorno con cui con un semplice giro di ruota avranno la possibilità di riscattare una ricompensa la ruota della fortuna è comunque esattamente questa che vedete alla mia destra quindi non appena ci saranno i vincitori per ogni persona insomma si gira la ruota e come possiamo vedere si vince un oggetto tra questi qua che vedete alla mia destra ovviamente settimana in settimana cambieranno quindi non sono ovviamente fissi un giorno ci potrebbe essere che ne so il pack di Joker un altro giorno o un'altra settimana potrebbe esserci un altro di bundle quindi ovviamente mano a mano che passano i giorni settimane le ricompense comunque cambieranno e andiamo a vedere quindi il vincitore di oggi ragazzi mi raccomando per partecipare e provare a vincere alla ruota della fortuna mi raccomando essere iscritti al canale lasciare un bel like e soprattutto commentare andiamo a vedere comunque il vincitore di oggi ragazzi che è esattamente gioco lupato ecco il commento che ha effettuato adesso andiamo a vedere cosa ha vinto eccola qui la ruota della fortuna ovviamente facciamola girare vediamo un attimo cosa ha vinto gioco lupato e ha vinto la skinna ragazzi di Allie Queen quindi ovviamente scrivimi su Instagram che così ti invio il codice ragazzi bentornati in questo unissimo video io sono Cecchinato e oggi ragazzi siamo in unissimo video su Fortnite News per parlare ragazzi dell'evento finale infatti ormai come potete anche vedere dalla lobby manca solamente un giorno ormai anche qualcosina meno per l'evento finale che ci porterà poi ovviamente la nuovissima stagione numero 8 oggi andremo a vedere un sacco di leak il trailer che è uscito e tantissime nuove novità detto questo però prima iniziale se non sei ancora iscritto iscriviti mi raccomando attivando la campanellina cerchiamo di raggiungere i 300 mi piace e vi ricordo tutti i miei social qua sotto nei commenti fissati in alto tra cui Instagram, Telegram e tanta altra roba detto questo però incominciamo subito iniziamo quindi con la primissima novità ragazzi che riguarda l'item shop infatti parliamo di J Belvin che infatti come ha pubblicato lo stesso Fortnite come possiamo vedere ormai se ne sta andando praticamente dal negozio di oggetti quindi massimo stanotte addirittura o domani direttamente con la nuova stagione non sarà più disponibile nell'item shop quindi se dovete prenderlo ragazzi mi raccomando affrettatevi perché secondo me anche da stasera non lo vedremo più anche se credo che secondo me comunque insieme alla Marvel pure se ne andrà con la nuovissima stagione numero 8 passiamo poi ragazzi alla prossima novità che riguarda come possiamo vedere la skin di Skulli versione oscura con il suo bellissimo piccone il suo bellissimo backpack che come possiamo vedere che con il ritorno insomma del cubo in questa stagione in questo evento finale insomma che è benissimo ormai sappiamo che infatti tornerà sarà presente anche come probabilmente luogo dicono nella stagione nuova quindi come possiamo vedere potrebbe magari con l'arrivo con il ritorno di questo cubo potrebbe ritornare proprio questo set anche in occasione ovviamente di Halloween perché no insomma dato che torna il cubo magari un bundle a tema cubo non ci starebbe mica male quindi magari secondo i vari leak insomma potrebbe riuscire anzi potrebbe uscire per la prima volta questo bellissimo bundle che c'è nei file di gioco da tantissimo tempo fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di questa skin se vi piace se la prenderete comunque dovrebbe essere un bundle a pagamento in teoria sui 11,99 euro credo su di lì dovrebbe essere quello il prezzo e poi come possiamo vedere ragazzi vi informo che è uscita anche la nuovissima skin che avevamo parlato qualche video fa ovvero quella dedicata a questo alieno insomma con il suo backpack costo 1200 V-Bucks ed è una skin ovviamente che in teoria dovrebbe durare massimo due giorni poi se ne andrà ovviamente dal negozio getto e poi speriamo ovviamente che torni in un futuro inoltre ve la ricordate la skin dell'intruso elite che si poteva ottenere tramite il codice che dovete avere 1000 follower bla 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 bene in teoria questa skin dovrebbe comunque arrivare esattamente domani in occasione dell'evento finale se così non fosse è un bel punto interrogativo di come potrà arrivare per tutti gli altri questa skin anche perché si parla che questa skin è proprio dedicata all'evento finale quindi in teoria la dovremmo vedere proprio domani nel negozio oggetti se così non sarà non ne ho idea di quando potrà uscire andiamo avanti poi con la prossima news ragazzi che riguarda la patch 18.10 perché è ufficiale adesso è la patch con più test in assoluto proprio di fortnite infatti come possiamo vedere sono ben 725 test di prova secondo me ripeto è qualcosa inerente alla creativa 2.0 sicuro perché sono veramente tantissimi test e adesso ragazzi andiamo pure a vedere questo elenco di leak per le prossime stagioni infatti si parlava già prima dei draghi sembrerebbe che con questa collaborazione che leggete proprio qui alla mia destra possano arrivare proprio nelle prossime stagioni infatti nella stagione numero 9 comunque si parla di animali volatili proprio che stanno quindi nei cieli quindi questa collaborazione potrebbe magari arrivare durante la stagione numero 9 inoltre avremo pure un personaggio di star wars non si sa ancora quale nella prossima stagione numero 8 in più ragazzi la storia di fortnite si dice che entrerà nel tema medievale ovviamente si parla sempre da season 8 e inoltre verrà spiegato il personaggio che comanderà il cubo che sappiamo che in teoria dovrebbe essere questa sorta di regina che in teoria dicono che sarà pure nel prossimo pass battaglia quindi questi sono un po' di leak per le prossime stagioni ovviamente ancora da confermare comunque poi come possiamo vedere comunque per quanto vuole a potere pannocchia è ovviamente entrato oggi stesso nella fase numero 3 quindi in teoria dovrebbe essere il suo stage diciamo finale che ovviamente è tutto pronto poi per l'evento finale andiamo avanti poi con le prossime news che riguarda fortnite ed apple come possiamo vedere infatti fortnite tornerà sull'apple store molto probabilmente ragazzi solo però quando epic e ovviamente apple si metteranno d'accordo per quello che riguarda il pagamento infatti per chi non lo sapesse con le ultime udienze diciamo che fortnite tra virgolette ha perso in tutto ma ha diciamo vinto l'unica causa ovvero quella principale di cui tra l'altro ovviamente ha diciamo iniziato questo dibattito con apple e quindi in poche parole si fortnite molto probabilmente riarriverà quindi ritornerà sui dispositivi insomma apple ma devono ancora mettersi d'accordo per i pagamenti e tutte queste cose quindi ci vorrà comunque ancora un sacco di tempo prima che ovviamente fortnite ritorni su apple quindi ancora un bel po' di mesi sicuro ci mettono passiamo adesso invece ragazzi all'evento finale perché ormai come ben sapete sarà esattamente domani 12 settembre alle ore 22 poi vi ricordo che ci saranno i bar 6 bar 8 ore di server offline per la nuovissima stagione che arriverà il 13 settembre verso le 9 barra 10 al mattino e come possiamo vedere ragazzi questo è un post che hanno pubblicato esattamente ieri adesso andiamo anche a vedere il trailer che hanno pubblicato questa comunque un'immagine promozionale per la nuovissima stagione numero 8 che è un semplice bus da battaglia con lo sfondo insomma tutto giallo arancione rosso inoltre ragazzi per chi se lo stesse chiedendo quanto dura l'evento finale in teoria da quello che si vede nel sito della playstation dovrebbe durare l'evento ragazzi ben 15 minuti poco meno poco più dovrebbe durare questo secondo ovviamente il sito playstation quindi prendiamolo ovviamente come fonte non ancora ufficializzata però in teoria se lo dice il sito playstation dovrebbe essere più o meno quello il tempo 15 magari 13 magari poco meno però dovrebbe essere più o meno quello il tempo dell'evento che è tantissimo comunque ricordiamo che comunque l'evento pesa ben 500 megabyte compressi quindi in realtà dovrebbe pesare tipo su un ciga e qualcosa detto questo ragazzi però adesso vi lascio il trailer che in realtà ne ho ben due uno che hanno pubblicato su tiktok e l'altro ragazzi forse l'avrete già visto l'ha pubblicato fortnite stesso quindi vi lascio i trailer che sono stati rilasciati da fortnite quindi ufficiali per l'evento finale ehi ho saputo che vuoi salvare tutti con la tua amica zlone da un lato mi consola parecchio ma dall'altro ho davvero davvero paura per te non mi fido della zlone sii prudente e abbi cura di te perché lei non lo farà di certo e c'è un'altra cosa su quella nave potrebbe esserci roba che nemmeno la zlone si immagina non voglio mandarti nel panico ma qualunque sia il tuo incubo peggiore che potrebbe essere molto e da quest'ultimo trailer che ragazzi avete visto che hanno pubblicato su tiktok dovrebbe in teoria essere il sound quindi diciamo la canzone sottofondo che avete appena sentito dovrebbe essere quella che ci sarà durante proprio l'evento finale quindi piccolo spoiler di come probabilmente sentiremo l'audio durante l'evento detto questo c'è anche questo bellissimo messaggio di Mary che è stata la stessa che ha per l'appunto pubblicato il primissimo trailer che vi ho appena messo e come possiamo vedere rilascia questo lunghissimo messaggio che vi lascio qui alla mia destra e tra tutto il messaggio insomma che spiega che il messaggio che c'era nel teaser che vi ho mostrato prima è stato interrotto in teoria da IOI c'è questo messaggio che vi voglio leggere sentiti libero di rispondere a questo ma tieni a mente la sicurezza extra dei IOI su internet in questi giorni se mostri supporto per me ti contrassegneranno come disco scottante mentre ragazzi se mostri supporto per loro ti taggeranno come avvocato OI quindi interessante messaggio questo inoltre come avrete anche visto dal primo teaser ragazzi per l'evento finale si parlava anche che praticamente gli diceva la Sloan che lei non aveva neanche idea di quello che c'era nell'UFO Mother quindi dovrebbe esserci veramente qualcosa di impressionante si parla ovviamente del cubo Kevin secondo me un po' perché è diciamo l'elemento principale di questo evento finale comunque vedremo detto questo le news per l'evento le abbiamo viste direi che per oggi ci possiamo fermare qui noi ci vediamo domani con un bel videozzo magari riassuntivo per la nuova season e il battle pass e la nuova stagione numero 8 e ci vediamo credo stasera in live bella e ci vediamo Grazie a tutti.